un grande grandissimo calorosissimo augurio dal vostro rico cover che vi dà il benvenuto al nuovo tutorial su come si prepara un perfetto cocktail adatto a grandi e piccini per il vostro cenone di natale mi raccomando ricordatevi che per essere adatto a grandi e piccini non deve assolutamente contenere alcol sostituite l'alcol con bevande colorate e bevande alla frutta esattamente come sta facendo la nostra meravigliosa signora cover e dopo aver completato il vostro cocktail siete perfettamente pronti per gustare il vostro cocktail della cena di natale grazie